Contriamo subito perché è arrivato il loro momento, il Polonello Laurenzi, Laura Patrioni, buongiorno! Buongiorno, ben arrivati! Buongiorno a tutti! Come state? Bene! Bene, quasi, tutto bene. Però come diciamo di volta... Basta crederci! Oggi com'è il tempo? È ancora bello perché noi arriviamo all'alba e non si vede ancora che c'è il sole, se piove c'è il sole. Mica è scoppiata la primavera e nel frattempo che stavamo qua? No, nel frattempo no! Credo! Colonello, cosa fa questo tempo? Ve la dico subito! Non voglio togliervi il sorriso, iniziamo con la bell'alba, con le belle cose, poi però nel pomeriggio va a finire. Ecco, piove! 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 Guarda che belle immagini, guarda, queste sono veramente... questo è il gran sasso, capo imperatore. Colonello, allora questo tempo cosa sta facendo? Sta facendo che ancora una volta fa un po' di bizze. L'alta pressione si è messa nella parte sbagliata, quindi da noi arrivano le perturbazioni. Abbiamo un'alta pressione che normalmente non ci dovrebbe stare lì, sta sull'Europa centro-sententrionale e da noi arrivano tutte le perturbazioni e si fermano perché quest'alta pressione le blocca, non le fa andare verso Levante. Quindi noi siamo nel bel mezzo di questo flusso perturbato. Un giorno sì, un giorno no, arriva una perturbazione. Oggi ne arriva un piccolo anticipo, poi tra giovedì e venerdì ne arriva ancora un'altra, poi ne arriva un'altra tra domenica e lunedì, quindi siamo a posto. Non c'è scampo. Non c'è scampo, come ci muoviamo? Ci muoviamo qua. Però insomma ci vuole pure la pioggia, vedo che la pioggia almeno ha portato un po' di verde nelle campagne, quindi certo, noi della primavera abbiamo un'immagine più idilliaca, immaginiamo chissà che cosa, anche il tempo di marzo dovrebbe essere questo. Però tutto sommato è in media. C'è una cosa che ci consola? Le temperature non sono basse. E poi c'è la neve, però attenzione alle valanghe. La neve è sempre importante, c'è un dono di Dio, la neve è bianca, dipinge con un colore soft tutto l'ambiente e poi serve per rifornire i fiumi durante la primavera e l'estate e anche le nostre sorgenti. Quindi non è soltanto la gioia degli sciatori, però ecco, se andate a sciare, attenzione alle valanghe. Sempre prudenza. Non andare fuori pista. Laura, il colonnello diceva una cosa importante sulla primavera, che quando sta per arrivare la primavera noi siamo tutti quanti carichi. E ci sentiamo legittimati a cambiare, a migliorare il nostro aspetto, a fare le diete, e invece niente, zero. Non parliamo di diete. Una fricatura solenne, perché noi l'adeguamento lo vogliamo fare, in realtà non ci riusciamo, allora c'è la delusione e la delusione porta anche depressione, perché ci sono tante persone che aspettano come se fosse qualcosa che le deve gratificare la primavera, invece niente. L'inverno si metti sotto un cappotto, ti mangi un piatto di pasta e fatica niente. Non si vede neanche, certo. E lì non puoi farlo, mangiare il piatto di pasta, perché il corpo reclama le sue attenzioni e quindi uno vorrebbe vedere anche a livello fisico un cambiamento e spesso questo non è possibile. E quindi bisogna stare attenti che la primavera non faccia quello che non riesce a fare nell'inverno e nell'autunno, cioè mandarci in depressione e in crisi. Bisogna cercare di reagire, perché noi siamo sempre noi e quindi c'è una continuità della nostra capacità di vedere, anche di vederci allo specchio. Dobbiamo pensare alle cose buone e non limitare la nostra autostima soltanto a qualche cosa. A quello che dice la bilancia. Esatto, esatto. Ora non scherziamo, però è un messaggio importante che dobbiamo dare questo. Certo, certo. Assolutamente. Allora, però, è arrivato il momento, sono le 10.41, è arrivato il momento che io attendo per tutta la settimana. Con l'annello, andiamo. Facciamo, effetto, andiamo. Allo sperimentino. Oggi cambiamo, non vedo palloncini. No, non vediamo palloncini, però la prossima volta li porto. Facciamo un esperimento di questi, sono un pochettino, non dico complicati, ecco, questi si comprano facilmente, ci sono dei negozi stupendi che vendono tutti questi oggetti. E poi, questo invece bisogna farselo fare, bisogna andare o da un falegname oppure se siete bravi. Questo chi l'ha fatto? Questo l'ho fatto io, oramai, insomma, fa parte del mio repertorio. E con questo qui voglio fare un esperimento un po' carino. Adesso lo posso mettere qua, magari? Sì, è meglio. Serve una mano? No, no. Serve aiuto? Allora, ci vuole un piano inclinato, fatto in questo modo, e poi un oggetto di questo tipo. Questi sono due imbuti incollati. Secondo voi, se io metto questo oggetto qua, dove va? Va dalla parte in discesa. Verso di noi. Verso di noi. Invece, meraviglia delle meraviglie, vediamo se funziona, dove va? Va dalla parte. Va al contrario. Va al contrario. E perché? Perché gioca... Lo possiamo rifare? Ma certo che lo rif... Aspetta. Lo vedete ancora. Eccolo qua. Quello che funziona in questo modo è il baricentro. Non dovete seguire l'andamento, dovete seguire semplicemente il baricentro. Il baricentro tende ad andare giù e quindi questo se ne va in là. Ecco, rimane qua, non se ne va più in là. Guardate, funziona così. Questo è uno di quelli che c'entra con la metodologia. Anche le perturbazioni... Ma che lo faccio anch'io qua così? Posso? Sì, sì. Sì, aspetta però, non deve essere troppo largo né troppo stretto, circa un palmo. Ecco, mettilo da qua, sì. Vado? Va in mezzo. È riuscito! E poi? C'è 30 secondi. Anche questo è carino, no? Questo però è difficilissimo farlo. Io ci ho provato con le palline, però non viene. Me lo sono andato a comprare, che lo vendono. Allora guarda, la conservazione della quantità di moto. L'energia va sulla prima. La prima la dà alla seconda, la seconda alla terza, la terza alla quarta e l'ultima si muove. Questo qui, anche questo qui con le perturbazioni, perché le perturbazioni viaggiano in fila. C'è un treno di perturbazioni e ognuna rifornisce di energia l'altra, quindi è l'ultima quella che è più forte e le altre invece si attenuano quando vengono in fila. Ecco, questo pure. Questo l'ha inventato Newton. È la bilancia di Newton. È il tendolo di Newton, si chiama questo qua. Anche questo qua. Poi la prossima volta faremo gli esperimentini con i palloncini. Con i palloncini, grazie. Grazie al coloniello. Colmello, torniamo ad accomodarci. Grazie, perché a noi piace sempre, siamo qua col pubblico quando vengono gli esperimenti, ma noi ci divertiamo come Matti, guarda. A noi piace moltissimo. Non so se ci piaceranno o meno le previsioni che ci aspettano invece per i prossimi giorni. Ma sì, dai, fanno parte, non vi deprimete comunque, cioè è normale. Alla primavera uno immagina, come diceva lei, che ci porti sempre tutte queste cose. Invece niente. Allora, oggi è così, oggi che è mercoledì dovrebbe andare a peggiorare, ma questo ve l'ha detto il mio collega dell'aeronautica. Poi giovedì ancora un tempo brutto, ma in miglioramento. Invece poi venerdì comincia a ripeggiorare di nuovo. Ombrelli aperti al nord, specialmente al nord-ovest, sulle coste tirreniche della Toscana. E ombrelli aperti anche sulla Sardegna. Invece schiarite al centro e schiarite ancora più ampio al sud. Poi sabato, eccola qui la perturbazione che avanza. Gli ombrelli si portano verso il centro-sud e quindi avremo un temporaneo miglioramento. Quindi sabato ancora tempo brutto, passa la seconda perturbazione di questo scorcio di settimana. Sabato tempo brutto al centro, ma con tendenza a miglioramento. Immaginavate che fosse finita? No. Domenica, eccola qua. Altra perturbazione, soprattutto al nord. E questa però è una perturbazione che si farà vedere tra il pomeriggio e la sera. Quindi domenica mattina il tempo potrebbe essere buono. Quindi per tutto ciò che dobbiamo fare, la domenica uscite, andate alle messe. Andiamo a prendere le passerelle. Andate a prendere le passerelle, portate a spasso i bambini. Insomma, la domenica mattina. Perché poi il pomeriggio, ad iniziare dal nord, ci saranno delle piogge. Attenzione perché inizialmente queste perturbazioni, soprattutto al centro-sud, portano dei temporali. Quindi se avete paura dei temporali oppure non volete trovare la pioggia forte, insomma, tenete d'occhio le nuvole. Le nuvole nere vanno evitate. Mi raccomando, quindi l'ombrello, non dimenticatelo. Laura, i santi di questa settimana quali sono? I santi sono importanti. Allora, il 7 è Santa Perpetua e anche Felicita. Perpetua era la padrona, Felicita era la sua schiava. Sono state due donne coraggiose. Una aveva partorito da poco, l'altra partoria proprio durante la prigionia e vengono mandate a essere mangiate. E poi l'otto invece è importante perché è San Giovanni di Dio. Non è che si chiamasse così, però nessuno sapeva come si chiamava San Giovanni di Dio. Le hanno dato un bel nome, via. La provvidenza non è mai troppa, ha fondato l'ospedale e è stato un caso perché l'hanno preso per pazzo. Allora alla fine lui, perché diceva San Giovanni di Dio, fate bene fratelli, fate bene fratelli, e quindi l'hanno preso per pazzo. E' il padrono degli ospedalieri. Poi invece il 9, grandissima santa, Santa Francesca Romana, patrona delle vedove, perché è rimasta vedova e quindi è riuscita però ad aiutare tutti, sta a Tordespecchi. E' visitabile soltanto il giorno di Santa Francesca Romana, il 9, la sua casa chiesa, dove lei faceva tanto bene, faceva entrare tutti i poveri del circondario. San Giovanni di Dio era un militare che poi ha lasciato la vita militare e è diventato una specie di frate, però tutti lo prendevano per scemo, matto, perché diceva delle cose. Tanto è vero che l'hanno messo pure al manicomio. Non che i militari latano tutti al manicomio, assolutamente no, però insomma... 10 secondi per dire il proverbio. Marzo, è un mese che fai capricci, ogni giorno combina pasticci. Marzo, re dei capricci, ogni giorno combina pasticci. Cerchiamo di combinarli noi. Grazie, grazie a voi. Laura Patrioli, colonnello Laurenze, grazie per essere stati con noi. Rimanete anche voi con noi in qualche istante di pubblicità e noi torniamo ancora, perché questo mercoledì non è finito e ci aspetta un ospite molto importante, a fra pochissimo. Grazie.